La fimosi è quella condizione in cui si ha un restringimento dell'orifizio del prepuzio che non consente di scoprire autonomamente il glande. Ci possono essere vari tipi di fimosi, acquisite o congenite. Quelle acquisite avvengono durante lo sviluppo puberale oppure a seguito di alcune infiammazioni del glande, soprattutto in presenza di un diabete o di altre malattie che possono avvenire in tarda età. Poi però ci possono essere delle fimosi in cui questo orifizio prepuziale è molto stretto e quindi si tratta di una fimosi serrata. Ma ci sono anche delle fimosi chiamate funzionali, nelle quali questo problema si evidenzia solo al momento dell'erezione. Va operata la fimosi perché nel momento in cui non si scopre il glande, tra la pelle del prepuzio e il glande si accumulano i batteri, si accumulano delle secrezioni. Questo espone il paziente a delle infiammazioni ricorrenti, a delle infezioni urinarie e quindi conviene operarsi per motivi genici e per ridurre il rischio anche di malattie a trasmissione sessuale. Nelle popolazioni che hanno adottato l'uso della circoncisione, le malattie degenerative del pene, come per esempio il tumore del pene o il tumore del colo dell'utero, sono molto più rare che nelle popolazioni in cui questa misura non viene adottata. Ci sono vari tipi di interventi chirurgici. Quello classico è quello dell'asportazione della pelle in eccesso. In altri casi, e poi bisogna vedere caso per caso, è possibile non asportare la pelle, ma fare una semplice incisione verticale con una sutura orizzontale per allargare quell'anello che stringe il glande e non consente poi di scoprirlo completamente. Questa si chiama plastica secondo due anelle. Ovviamente la scelta dell'intervento dipende da caso a caso, dalle preferenze anche del paziente e della condizione locale anatomica che poi si trova. Non è un intervento doloroso, si fa in anestesia locale, si impiega pochi minuti e il paziente dopo un paio d'ore di osservazione può tornare a casa. Alcuni tipi di fimosi vengono intercettati durante l'età pediatrica, dove c'è una sorveglianza sanitaria dei genitori che mette in evidenza il problema e lo portano dal chirurgo pediatra. Quando la fimosi si sviluppa durante il periodo buberale, i ragazzi tendono a nascondersi perché i genitori perdono il controllo della salute sessuale dei ragazzi. Noi abbiamo fatto uno studio su popolazione e abbiamo visto che i ragazzi che a 18 anni avevano ancora la fimosi o un disturbo di retrazione del prepuzio, meno frequentemente degli altri, avevano appunto la prima esperienza sessuale. Per cui quelli che durante l'adolescenza sviluppano la fimosi, poi più difficilmente la riportano ai genitori per essere aiutati. Quindi i ragazzi si nascondono, non sanno da chi andare e portano con sé questo problema che le espone non solo a problematiche di carattere ingienico e biologico, ma anche a fragilità psicologiche, perché a quel punto in alcuni casi mettono in moto un meccanismo di evitamento dell'incontro, della relazione, proprio per non spogliarsi e non farsi vedere. Grazie.